state attenti a non praticare la vostra giustizia davanti agli uomini per essere ammirati da loro altrimenti non c'è ricompensa per voi presso il padre vostro che è nei cieli dunque quando fai l'elemosina non suonare la tromba davanti a te come fanno gli ipocriti nelle sinagoge e nelle strade per essere lodati dalla gente in verità io vi dico hanno già ricevuto la loro ricompensa invece mentre tu fai l'elemosina non sappia la tua sinistra ciò che fa la tua destra perché la tua elemosina resti nel segreto e il padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà e quando pregate non siate simili agli ipocriti che nelle sinagoge e negli angoli delle piazze amano pregare stando ritti per essere visti dalla gente in verità io vi dico hanno già ricevuto la loro ricompensa invece quando tu preghi entra nella tua camera chiudi la porta e prega il padre tuo che è nel segreto e il padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà e quando digiunate non diventate malinconici come gli ipocriti che assumono un'aria disfatta per far vedere agli altri che digiunano in verità io vi dico hanno già ricevuto la loro ricompensa invece quando tu digiuni profumati la testa e lavati il volto perché la gente non veda che tu digiuni ma solo il padre tuo che è nel segreto e il padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà iniziamo la quaresima a me piace quando questa frase iniziamo la quaresima perché la parola iniziamo è una parola ambigua perché è la mercoledì in cui inizi la quaresima perché iniziamo potrebbe dire quante volte ho iniziato e tanto sono sempre lo stesso quante volte ho iniziato e tanto poi so come finisco se la parola inizio lo prendo nel significato cronologico non so se ci pensate è vero ma anche ambiguo nella parola filosofica permettetemi questo riferimento ma mi sembra inizio per esempio nel vangelo di marco inizio del vangelo di richiama la genesi inizio del dio inizio in principio ve lo ricordate il testo della genesi nella bibbia inizio non vuol dire solo cronologia ma vuol dire l'arche vuol dire il senso vuol dire che noi non iniziamo la quaresima diamo senso quaresimale alla nostra vita guardate che cambia totalmente perché se io penso in senso cronologico dico di nuovo come i compleanni è un anno in più se io intendo invece l'inizio come dare il senso capite che noi dobbiamo sempre tutte le mattine quando io mi altro devo dare senso alla mia vita e se la giornata prima ho iniziato bene ho finito male non vuol dire che il giorno dopo non devo dare di nuovo senso allora io vorrei dare questo mercoledì delle ceneri dicendo cogli quest'occasione dell'inizio della quaresima per ridare senso quaresimale alla tua vita cosa vuol dire dare senso quaresimale e qui seconda parola inizio quaresimale cosa vuol dire 40 giorni anche lì cos'è 40 40 era l'esodo 40 sono i giorni di gesù nel deserto cioè viviamo un tempo di deserto il deserto nella bibbia ha due significati il deserto è il luogo del dove della tentazione ma anche il luogo dell'incontro con dio cioè impariamo a scoprire che l'assenso della vita il senso della tua vita cristiano non cristiano comunque è il senso è capire che sei fragile ma la tua fragilità non è pericolosa nella tua fragilità puoi o cadere cosa servo faccio finta di non essere fragile sono un peccatore non c'è più possibilità per me ma anche potrebbe essere fragilità e anche scoperta che non sei il creatore ma sei una creatura capisci cosa voglio dirti voglio dirti la tua fragilità è anche la tua possibilità di essere uomo e quindi scoprire che non sei dio e che tu puoi trovare dio come tuo alleato che l'uomo senza dio la sua fragilità diventa o peccato depressione o peccato superbia mentre se tu riconosci chi sei chi sei tu uomo allora scopri un alleato dio è il tuo creatore sia amico di dio vivere l'inizio della quaresima vuol dire riscoprire il senso della nostro essere creature chiamati da dio amati da dio cercati da dio dove sei che non hanno paura di dire sono qui vieni a salvarmi voglio incontrarti voglio stare con te senza di te dove posso andare riscoprire il senso dell'amore e della presenza di dio nella nostra vita nella nostra quotidianità questo è la quaresima quaresima non è il tempo depressivo delle penitenze tutto giusto ma tutto questo digiuno preghiera aiuto del prossimo non sono delle attività sono la riscoperta che senza dio preghiera tu sei un povero e la tua elemosina è superbia che devi riconoscere nel fratello a cui fai l'elemosina dio preghiera e che tutto questo lo puoi fare se riscopri il senso del silenzio del raccoglimento della del tuo della preghiera dell'incontro con dio allora viviamo la quaresima nella ecco perché la cenere capite ricordati che se polvere in polvere ritornare vuol dire non sei niente a me l'umiltà pelosa non è mai piaciuta umiltà vuol dire umanità se riconosciamo ciò che siamo l'umile non è colui che sottovaluta i doni che ha ma che le riconosce come doni che possono essere vissuti con dio allora un'altra occasione certo ci sta ma in che cosa nello scoprire il senso il senso lo devi scoprire sempre allora diventerà un nuovo inizio altrimenti sarà un inizio dicendo tanto sono uguale il senso invece può essere è come il sale se tu una volta fai la pasta senza sale non è che non farai più la pasta nella tua vita la prossima volta mettici sale così almeno mangerai una pasta gustosa no inizia a imparare a capire che il senso della tua vita senza senso davvero la tua vita non ha senso allora buon inizio di senso